Il braccio di ferro prosegue, governo e regione continuano a parlare lingue diverse in tema di sanità e ad ogni azione del presidente Mario Oliverio corrisponde puntualmente una reazione dell'esecutivo Renzi. Un vero e proprio muro contro muro che si protrae ormai da mesi. In ordine di tempo gli ultimi due episodi risalgono alla giornata di ieri. Il primo colpo a Palazzo Alemanni lo ha assestato da Roma il ministro della salute nell'elenco delle regioni sottoposte a piano di rientro che tra due anni usciranno dal commissariamento del settore sanitario non figura guarda caso la Calabria. A ritornare in regime di normalità saranno soltanto Abruzzo e Campania nel 2017, una decisione che va a smentire nettamente i recenti annunci di Palazzo Alemanni. Nelle stesse ore si consumava un altro scontro a livello periferico tra il capo dell'esecutivo e il neocommissario alla sanità calabrese Massimo Scura. Quando Mario Oliverio aveva appena finito infatti di nominare i nuovi commissari delle aspe delle aziende ospedaliere dal Dipartimento della Salute Scura dava subito forfè al primo incontro previsto inizialmente per la giornata di lunedì. Tutt'altro che certo anche il destino del disegno di legge sull'azienda sanitaria unica regionale. Anche la rivoluzione annunciata da Oliverio dovrà passare d'altronde sotto le forche caudine di chi detiene la guida della sanità calabrese in questo momento. Insomma, se regione e governo continuano a non dialogare il futuro di un sistema strategico per la Calabria pianificato su tavoli separati rischia di finire definitivamente nel pantano.